Hanno portato tutta la loro rabbia sotto l'assessorato alla città in movimento di Roma Capitale in via Capitan Bavastro e questa volta pare che a qualcosa sia servito. Sono i lavoratori della ditta Tundo che per conto di Comune e dell'ASL gestisce il servizio di trasporto anche scolastico dedicato agli utenti disabili. 260 i dipendenti in tutta Roma, una cinquantina soltanto nel decimo municipio, da cinque mesi sono senza stipendio, TFR, rimborsi del 730 e 14esima. A causa di un contenzioso tra la società e l'amministrazione. Ora, finalmente il Campidoglio sembra aver preso in mano la situazione. Roma Capitale, si legge in una nota ufficiale, ha messo in atto ogni iniziativa di propria competenza nei confronti dell'azienda, al fine di garantire il corretto pagamento degli stipendi. Gli uffici hanno ricevuto indicazioni dagli assessorati competenti perché autorizzino l'ulteriore cessione del credito di Tundo S.P.A., così da consentire l'anticipo delle relative fatture, dando liquidità alla ditta per il versamento delle retribuzioni. Parallelamente, conclude la nota, avviamo le procedure di pagamento diretto e l'escursione delle fideiussioni, unitamente all'ennesima di fida alla corrisponzione degli stipendi. Grazie a tutti.